È una ragazza giovane che suona un basso un po' insolito, da qualche anno con la sua band sta girando il mondo, riscuotendo successo un po' ovunque. Non viene né da USA né da UK, come di norma quando si parla di rock, ma da un paese dalla bandiera bianca, rossa e verde. Hey Buzzwalkers! No, preciso subito, non sono qui a parlare di quella bassista, di quella band di cui tutti parlano, o perlomeno non solo di lei, ma più che altro di quella che è considerabile la sua rivale. È considerabile la sua rivale? Non lo so, scopriamolo insieme. Parliamo oggi quindi di Alejandra Villareal, bassista dei De Warni. E chi è? Direte voi, perché lo so, lo so che in fondo siete tutti dei boomer come me del resto. Ma oggi voglio informarvi, voglio provare a darvi qualcosa in più, un nuovo input per una nuova consapevolezza bassistica. Quindi via! Bene, partiamo, partiamo scoprendo chi sono queste The Warning, band formata da tre sorelle, appunto le tre sorelle Villareal, provenienti da Monterrey, Messico, che nel 2015 vedono un po' di successo pubblicando su YouTube una cover di Enter Sandman dei Metallica. Loro sono giovanissime, pensate, la bassista ai tempi aveva sì e no 11 anni, parliamo veramente di qualcosa del genere. E la cosa interessante è che grazie a questo video hanno riscosso un successo immediatamente enorme, tantissime visualizzazioni, tra cui quella, pensate, niente po' di meno che, Kirk Hammett, il chitarrista dei Metallica, che il giorno dopo aver visto questo video ha scritto questa cosa sul suo Twitter. Parlando in particolare della batterista, appunto, diceva, la batterista spacca al massimo. Ecco, diciamo che possiamo tradurlo più o meno così in italiano. Il successo cresce e nello stesso anno pubblicano il loro primo EP intitolato Escape the Mind. Pensate, quindi ha 11 anni in studio a registrare il suo primo disco. Questa è Alejandra Villareal. Lei, insieme, appunto, a sua sorella Dani, chitarrista e voce della band Classe 2000, e Paolina, classe 2002, batterista e voce anche lei, iniziano così una carriera vera e propria, fatta di successi. Prima in patria, ma ben presto arrivano anche a superare i confini messicani e arrivano addirittura a esibirsi al Whisky A Go Go a Los Angeles, per esempio. Arrivano ad aprire a band tipo i Def Leppard, inizialmente, fino all'anno scorso, quando appunto sono stata la band che ha fatto da supporto al tour mondiale dei Muse. È del 2002 il loro ultimo album intitolato Error, che è l'album che le ha un po', diciamo così, consacrate al mondo. Un album full-length che, appunto, si è piazzato un po' ovunque nelle classifiche mondiali e sta avendo veramente ancora oggi un successo enorme, grazie anche a parecchi singoli e parecchi video di cui tra un attimo parliamo. E Alejandra, come dicevamo, è proprio un tassello fondamentale di questa band. Il suo modo di suonare il basso, la sua personalità, è veramente una delle cose probabilmente più importanti della band. Pensate che Alejandra, in questo momento, quindi ha 20 anni, una ragazza di 20 anni che suona, che è già stata sponsorizzata, diciamo così, dalla Spector e va a fare tour mondiali. Ciò, ovviamente, ci riporta alla mente un'altra band di giovanissimi che nel giro di breve tempo sono arrivati a successo mondiale e questa band viene dall'Italia, lo sappiamo tutti, e quindi parliamo della nostra Victoria Nazionale. E cerchiamo quindi di fare un confronto, perché effettivamente siamo in un momento storico in cui due delle bassiste rock più acclamate sono, appunto, una messicana e un'italiana. Vediamone un po' una contro uno, vediamo un po' di fare un confronto. Partiamo dall'anno di nascita, abbiamo detto Ale del 2004, mentre Victoria del 2000. Il paese di nascita di Ale, ben detto, è il Messico, mentre, come sappiamo tutti, Victoria è italianissima. Il basso utilizzato, Alejandra usa uno Spector fatto produrre appositamente per lei, e anche questo tra un attimo lo vediamo, mentre invece sappiamo tutti che Victoria utilizza un Dan Electro, quindi entrambi strumenti, diciamo, che non sono proprio tra i più consueti, volendo vedere. Plettro o dita? Entrambe preferiscono le dita. Alejandra la si vede spesso anche suonare con un plettro, invece Victoria personalmente non l'ho mai vista utilizzare questo attrezzo. Se qualcuno di voi sa qualcosa di più a riguardo, me lo faccia notare nei commenti. Tecnica e stile. Allora, più che parlarne, ovviamente, sarebbe il caso di andare a sentirle. Quindi vi faccio sentire degli estratti da alcuni loro brani, prima di una e poi dell'altra. Quindi sarete assolutamente voi poi a giudicare cosa vi piace, cosa non vi piace, cosa ne pensate. Ascoltiamo qualche linea di basso. Musica Musica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.